Buongiorno a tutti, un paio di giorni in cui si parla ripetutamente del telefono cellulare. Naturalmente questo è un argomento che non abbiamo mai abbandonato, anzi non abbiamo mai abbandonato il telefono, ce l'abbiamo sempre in mano, sempre sotto controllo, sempre attenti. Guardiamo molto più spesso lì che altrove, che in qualsiasi altra parte. Ce lo portiamo in bagno, ce lo portiamo a scuola. Ecco, chi va a scuola, il problema è proprio lì una proposta di legge di fare in maniera che il telefono non entri più nelle classi scolastiche. Naturalmente mi sembra un'ottima idea, visto che il telefono invece viene usato non solo per copiare qualcosa durante un compito in classe, ma viene utilizzato per fatti personali, magari proprio nel corso di una lezione. E' assurdo, naturalmente gli insegnanti dovrebbero evitare anche loro di usare il telefono, se no che esempio producono. Ma il problema è molto più ampio, molto più esteso. Il telefono ci sta succhiando tutto, le nostre risorse, la nostra attenzione, le nostre emozioni. Non voglio veramente essere così pesante e neppure fare il catastrofista, ma è proprio così. Cerchiamo di fare digiuno di telefono cellulare, di smartphone, una volta a settimana, da prima, magari la domenica, e poi magari un po' di ore durante il giorno. Ci proviamo?